Ciao mi chiamo Danilo e nella vita faccio anche il geometra. L'Enea ha chiarito quando può essere agevolato l'isolamento del tetto quando il sottotetto non è riscaldato con il super bonus 110%. Prima però lascia mi piace al video, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e se vuoi usufruire delle agevolazioni del super bonus in modo consapevole e conoscere approfonditamente la materia ti consiglio di verificare i contenuti che ti lascio nella playlist in descrizione per gli abbonati. Se ti abboni puoi accedere a questi contenuti che aggiorno settimana dopo settimana dove rispondo alle email e alle domande pratiche che mi inviate. L'isolamento dell'involucro opaco riscaldato di un immobile è agevolabile e è anche trainante nel caso del super bonus se non sai di cosa si tratta, cioè se non hai ben chiaro che cosa sono i trainanti, che cosa sono i trainati ti consiglio di guardare i video che ho fatto in proposito dal 2020 ad oggi. Se sei in condominio l'isolamento dell'involucro opaco è sia trainante che trainato perché per essere trainante deve essere realizzato sulle parti comuni, in condominio quindi sulle facciate esterne. Se essere trainato deve sempre in condominio essere realizzato sulle parti private ad esempio l'isolamento a cappotto interno è un intervento trainato mentre nelle uni familiari o nelle unità funzionalmente indipendenti è indifferente dove viene posto cioè comunque sono sempre parti private visto che non ci sono parti comuni tutto l'isolamento dell'involucro opaco, che non è solo quello delle facciate esterne ma è anche quello verso vani freddi, solai verso vani freddi o verso il terreno ad esempio nelle uni familiari appunto è tutto agevolabile ed è tutto trainante nel super bonus 110% Il problema sorge quando vai a fare l'isolamento del tetto se il sottotetto non è riscaldato. Perché? Perché l'eco bonus, sia quello con le percentuali inferiori che il super bonus si applica solo sui vani riscaldati Se vai ad isolare una parte dell'edificio che non è riscaldata quella non concorre né al 25% minimo di superficie di incidenza per poter raggiungere la soglia per poter accedere al super bonus né può essere agevolata almeno fino al 31-12-2020 L'isolamento del tetto non poteva essere agevolato in nessun caso se il sottotetto non era riscaldato attenzione, se il sottotetto era riscaldato se la soffitta era riscaldata o era una manzarda abitabile Questo problema non esiste Il problema esiste quando il tetto è a delimitazione di un locale non riscaldato solitamente la soffitta, il sottotetto, grezzo, utilizzato come ripostiglio o deposito Dal 1 gennaio 2021, con la legge di bilancio 2021 è stata introdotta la modifica al 119, all'articolo 119 del decreto rilancio quindi l'articolo che regola il super bonus che è possibile agevolare la spesa indipendentemente, anche se non sono queste le parole esatte che sono state usate indipendentemente dal fatto che il sottotetto sia riscaldato o meno quindi in qualunque caso isolare il tetto con il super bonus è possibile agevolare la spesa Da non confondere questo con il conteggio della superficie dell'involucro riscaldato perché ti ricordo questo è uno dei limiti per poter accedere al super bonus poi c'è il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio nel caso in cui stessi isolando il tetto di una soffitta non riscaldata la superficie che in teoria, anzi non in teoria, in pratica andrebbe conteggiata nel 25% e che andrebbe ad essere sommata nell'incidenza è l'isolamento del solaio orizzontale perché è quello che delimita il involucro riscaldato la parte riscaldata dell'appartamento sotto dal sottotetto non riscaldato l'Enea il 31-8-2021, il 31 agosto scorso ha pubblicato un chiarimento in merito ha detto che l'isolamento del tetto che ha delimitazione di un sottotetto non riscaldato può essere agevolata, portata in detrazione con il super bonus solo se non viene contestualmente isolato anche il solaio sottostante quindi se vai ad isolare il tetto e il solaio non puoi agevolare la spesa dell'isolamento del tetto se vai ad isolare il tetto e non il solaio sottostante che è quello a delimitazione dell'involucro riscaldato puoi agevolare la spesa al 110 ora l'obiezione che mi è stata fatta da molti tecnici da molti termotecnici che lavorano nell'ambito energetico è questa la soluzione migliore quando il sottotetto non è riscaldato è sì isolare il tetto ma contemporaneamente isolare anche il solaio che delimita l'appartamento dal sottotetto, dalla soffitta non riscaldata in questo caso si perde l'agevolazione si perde l'agevolazione nel senso che se realizzo entrambi non puoi agevolarla oppure se realizzo entrambi posso agevolare quella che faccio sull'isolamento sul solaio orizzontale ecco il chiarimento dell'Enea dice stessualmente le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura, tetto, non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante quindi se realizzi l'isolamento del solaio sottostante non agevolerai la spesa sul tetto al di là se porterai in detrazione la spesa dell'isolamento del solaio o meno perché si parla di esecuzione è un chiarimento utile? è positivo? è negativo per quanto riguarda l'esecuzione delle opere? se hai una tua idea lasciamela nei commenti così ne parliamo grazie a tutti